Il concesio calcio del presidente Simone Terminini sta investendo molto sui giovani, ottenendo in compenso risultati più che lusinghieri. I ragazzi Valtumplini hanno partecipato nel weekend di Pasqua al torneo internazionale di Bibione con le squadre 2008, 2010, 2011, 2014 e 2015. Brillanti performance da parte dei 2010 che si sono aggiudicati nella manifestazione, così come una delle due squadre 2014 che hanno partecipato al torneo. Molto bene anche 2008 e 2011 che si sono classificati al terzo posto. Per il primo maggio altro appuntamento di rilievo sarà la Spring Cup riservata agli Under-13 classe 2011. In questa occasione i ragazzi del concesio avranno modo di misurarsi addirittura con la Juventus nel quadrangolare in programma al centro sportivo Roberto Rosato di Chieri e dal quale saranno presenti anche i giovani di Biassono e Dalcione. Il match tra concesio e Juventus è stato programmato alle ore 16.20. Intanto il nuovo sintetico in fase di allestimento presso il centro sportivo Aldomoro è destinato a dare ancora più vitalità e stimoli all'attività giovanile.